Real in palleggio si alza Olivo Brenda fuori per Chiminello Chiminello ancora per Olivo uno contro uno prende un bellissimo tiro appoggiando al tabellone soltanto Conte pallone già recuperato da parte di Spinosa che trova ad andare via trova Chiminello dialogano i due Oliva si è alzato lascia il possesso a Reali cercano un pick and roll che si chiude ora e c'è il canestro più il fallo per il Sannino Nardi Camillo Conte si stacca a Coronini centralmente dopo il blocco riceve giocando con Pecetta che si prende un buon tiro e un bel canestro per Lanzio Tiro sputato via un po' dal ferro un po' dal tabellone mentre Oliva va in solitaria e spiaccia ad una mano appoggiando a tabellone mentre è già ripartito con Ridolfi il Sannino posto basso per Chiminello Chiminello con una finta si gira e trova un bel canestro cerca un passaggio sotto mano per un proprio compagno non riesce la giocata poi Pecetta centralmente Bernardi ma c'è la stoppata di Ridolfi che dice no il rimbalzo sempre di Oliva poi lancio lungo Ridolfi Ridolfi va via fallo più canestro gioco da tre punti di Oliva per servire Spinosa Pezzocchi chiama palla ora il post alto prova ad andare via riesce fuori da Ridolfi che si alza da tre trova solo la retina 56 per il Sannino mentre riparte Stora di casa bel passaggio battuto a terra per Spinosa che non ha particolari problemi ad appoggiare a tabellone Camillo Pecetta si alza Conte palleggio arresto tiro da parte del numero 33 che trova anche il canestro quando mancano 14 secondi al termine 10 ora si stacca a mazzocchia prova ad andare in palleggio alla fine forza e va a tabellone Ridolfi dentro l'area contatto tra Chiminelle e un avversario poi alla fine in contropiede un lancio lungo per Conte stoppato da Ridolfi Di Vaccaro sulla destra da proiettivo una finita poi bello il passaggio per un proprio compagno che può segnare semplici semplici due punti a reperto Conte chiede il blocco forse voleva andare subito al tiro non è così poi D'Alfonso ci va lui al tiro e trova un gran canestro D'Alfonso può partire il contropiede degli ostiti palla sull'esterno la penetrazione l'appoggio ed il canestro poi alla fine il tiro sulla sirena canestro vincente all'ultimo minuto per l'ansio da parte di Pecetta festeggia la squadra ospite sconfitta dolce però per il San Nilo che alla fine comunque festeggerà la serie B